Allora oggi ci cementiamo con questo esercizio, parte di questo esercizio, perché per un'ora e mezza neanche più, non riusciamo ovviamente a farlo tutto. Questo probabilmente l'avrete già visto, è uno dei temi esami vecchi, sullo stesso dataset c'erano tre turni, all'interno di ciascuno dei turni era richiesta qualche cosa leggermente diversa. Con voi oggi voglio guardare quello che avevamo chiamato turno B. Questo dataset è realizzato in modo relativamente semplice, perché sono dati scaricati dal sito ilmeto.it, che metteva a disposizione in un formato molto poco strutturato le informazioni meteorologiche città per città che si potevano scaricare e di fatto il file ha un aspetto di questo genere. Io avevo scaricato i dati, l'esame è del 2014, quindi avevo scaricato i dati del 2013 e di fatto per ogni città e per ogni data era a disposizione una serie di numeri che rappresentavano le varie tipologie, le varie dati atmosferici utili. Avevate già visto un esercizio tratto da questo dataset, se non sbaglio l'esercizio 7, quindi un pochino già la conoscete. Allora, quindi veniamo direttamente ai punti richiesti dall'esercizio. Il punto 1, di nuovo la parte semplice, era permettere all'utente di inserire il valore di un mese, celezionandolo qua sotto, tra 1 e 12, e visualizzare il valore dell'umidità media in ciascuna delle città presenti nel database. Quindi io devo scegliere aprile e lui mi deve dire l'umidità media nel mese di aprile a Torino era X, l'umidità media nel mese di aprile a Milano era e idem per la città di Genova. Allora, io questo punto qua l'ho già fatto, quindi partiamo già da quel punto, lo guardiamo solo insieme, rapidamente. Allora, tutto si basava su questo bin che ho chiamato simulazione, in cui rispetto alla versione che ho trovato online del testo dell'anno scorso, ho semplicemente modificato il campo data usando local date, visto che ora esiste, mentre l'anno scorso non esisteva ancora, al posto del java.util.date, quindi piccolissime modifiche solamente sul formato della data. Dopodiché tutto il lavoro è avvenuto ovviamente lavorando nel modello e nel controller, nel senso che a livello di controller avevo un'azione che ho chiamato do umidità associata a questo bottone calcolo dell'umidità che prendendo il mese deve acquisire con un metodo che ho chiamato get umidità media del modello che riceve come parametro il mese e restituisce quella che io ho definito una mappa tra stringa e double, dove la stringa rappresenta il nome della città e double rappresenta il valore dell'umidità media in quella città ovviamente in quel mese. Nulla di particolare, le uniche note sono che io ho cercato il più possibile e continueremo a cercare di farlo possibilmente di non codificare mai nel codice i nomi delle città o l'elenco esplicito delle città che mi interessano. Questo software adesso lavora con Torino, Milano e Genova perché sono una città che sono memorizzate, ma in teoria potrebbe, non dipende da questa conoscenza, quindi se comparisse una città nuova, comparisse, non so, Venezia o Roma, lui continua a funzionare, ovviamente mi fornisce le temperature medie di queste. È per quello che ho usato le strutture date un po' più complesse come questa mappa piuttosto che non calcolare tre valori. Io ricordo l'esame, molti avevano fatto proprio un metodo del model, dammi l'unità media di Torino, dammi quella di Milano, dammi quella di Roma, che di per sé non era sbagliato ai fini di quell'esercizio d'esame, ma in generale è un design un pochino povero. E quindi, delegando al model il calcolo dell'unità media di un determinato mese, semplicemente dovevo andare a navigare all'interno della mappa, quindi per ogni chiave di questa mappa, e vado a estrarre l'umidità dalla mappa stessa. Quindi, ovviamente, come fa sempre il controller, prepara i dati e stampa i risultati. Per quanto riguarda il mese, ho fatto qualcosa di un pochino più moderno rispetto a quanto era previsto nel testo. Nel testo diceva inserire valori di un mese tra 1 e 12. Avendo noi imparato ormai i tipi di dato di Java 8, la choice box, anziché crearla come choice box di integer, in cui appunto l'utente poteva scegliere il numero tra 1 e 12, esiste il tipo di dato java.time.month. Riguate che nella carrellata di vari tipi di dati, ci eravamo soffermati molto sul local date, ma poi abbiamo visto che esiste uno dei sottoinsiemi. Mount, in particolare, è una enumerazione che contiene i nomi dei 12 mesi. Quindi, la tendina permetterà di scegliere uno degli elementi di questa enumerazione predefinita. Quindi non devo fare quasi nessuno sforzo. Per popolare la tendina, e l'ho fatto nel metodo initialize, Mount, come tutte le numerazioni, ha un metodo values che restituisce tutti i valori definiti. Quindi, rispetto ad altri metodi, questo è quello più rapido per darmi l'insieme di tutti i valori. Perché ho già il numero. In realtà vedremo che il formato con cui saltano fuori non è proprio quello ideale, perché values in realtà tira fuori il valore della costante simbolica java. Quindi una cosa scritta tutta in maiuscolo, come una costante java. Volendo potremmo fare un pedino di sforzo in più per prendere la versione localizzata in italiano del nome del mese. ma sono dettagli che non ci interessano. Dove il lavoro, a questo punto, vero, lo fa il metodo get umità media e qui ho scelto di fare il modo, ho scelto di fare i calcoli lavorando direttamente con i dati letti dal database. Cioè, il modello legge all'inizio con questo metodo, le loro situazioni tutte le situazioni meteo dell'anno alla fine si tratta di mille righe mal contate con 365 giorni per tre città me lo posso permettere non bisogna andare avanti e indietro nel database a fare 100 query separate quindi mi leggo una volta per tutte le situazioni, o quelle che si chiamano situazioni cioè la situazione è il nome della tabella del database e le memorizzo dentro il modello e quindi la query vera e propria viene fatta analizzando questa collection cosa devo fare? Devo calcolare le medie vabbè, se usassi una query chiederai il database select average avg di umidità e quindi me lo fa lui il lavoro ma io, visto che ho deciso di lavorare internamente per calcolare l'umidità media devo prendere la somma delle umidità e dividere per il numero di giorni misurati allora lo faccio così per ognuna delle situazioni di tutto l'elenco di situazioni verifico se la riga l'elemento è nel mese che voglio quindi s.getdata mi dà il local date in cui è stata misurata con la situazione meteorologica data cioè il local date è fatta di anno, mese e giorno poi di questo estraggo un get month quindi dal local date i vari metodi get mi permettono di estrarre i singoli pezzettini estraggo il mese della data corrente corrente, la data corrispondente alla riga del database e mi chiedo se questo è uguale al mese che è stato passato come parametro quindi se usiamo di nuovo ancora una volta i tipi di dato per quello che sanno fare scriviamo del codice che è molto più pulito e semplice viceversa se dovessimo utilizzare dei numeri interi dovremmo essere lì a fare sempre molti controlli minore di 1, maggiore di 12 eccetera eccetera estrarre i dati in modi più faticosi quindi se la data è nel mese corrente ne tengo conto, se no la ignoro chiaro che non è molto ottimizzata questa roba qua perché su 12 mesi 11 verranno ignorati e invece uno solo verrà elaborato se volessi avessi bisogno di più efficienza dovrei garantire che le situazioni nell'elenco della lista fossero ordinate per data e allora a quel punto mi vado a posizionare sulla prima la considero solamente quel mese saranno tutte consecutive quelle del mese se sono ordinate per data e quindi non devo necessariamente leggere tutte le situazioni ma in questo caso non ho fatto questa ottimizzazione a questo punto se sono qua dentro cosa ho? ho una situazione che è di sicuro nel mese corrente nel mese che mi interessa questa situazione può essere di una qualunque delle tre città tre o otto adesso so che sono tre ma potrebbero anche essere di più o di meno allora vado a estrarre qual è la città a cui fa riferimento e come un calcolo di media devo calcolare la somma e il numero di elementi che vedo quindi dovrò incrementare il numero di elementi che ho visto della città in questione supponiamo sia Torino questa città allora dovrò dire che ho visto una situazione in più di Torino e quindi dovrò sommare all'umidità quella che diventerà l'umidità media di Torino il valore dell'umidità corrente questo lo faccio con queste due istruzioni qua sotto prende il numero di count cioè il conteggio di quante volte ho visto una città e la incrementa di uno e il valore dell'umidità la somma di tutte le umidità viste per questa città è l'incremento del valore di umidità letto nella riga che sto considerando quindi come fare un count++ ma non ho solo un contatore ne ho uno per ogni città quindi all'interno di questa mappa ogni ente di questa mappa di fatto funziona come un contatore l'unica eccezione questo vers gestisce il caso della prima volta in cui vedo una città se è la prima volta che la vedo count.get della città non lo potrò fare mi situerò null perché quella città lì non esiste ancora e allora lo verifico prima se per caso nel count la chiave città non esiste ancora beh lo inizializzo inizializzo il contatore a uno e la somma dell'umidità ovviamente all'umidità corrente quindi la prima volta per ogni città passo da queste due righe quindi dall'inizializzo le altre volte passerò dalle righe superiori in cui vado a incrementare alla fine che cosa ho in questa mappa avrò ognuna delle due mappe città e umidità avranno tre elementi uno relativo alla chiave Torino chiave Milano chiave Genova e come valori avranno relativamente il numero di misurazioni fatte nel mese in ciascuna delle città e la somma delle umidità relative a queste misurazioni per passare dalla somma alla media devo dividere e questo lo faccio in queste due righe sotto prendo la mia mappa umidità elemento per elemento prendo il valore dell'umidità e lo divido per il conteggio del numero di misurazioni fatte in quella città e lo rimpiasso nella mappa stessa quindi da qui in avanti la mappa umidità non contiene più la somma ma già le medie io questo lo faccio uno potrebbe dire ma perché non hai semplicemente diviso per il numero di giorni del mese è perché non è detto che le misurazioni ci siano tutte nel database lo vedevamo chiaramente ad esempio la prima riga del file partiva dal 2 gennaio anziché dall'1 quindi già ci metteva la pulce nell'orecchio attenzione che magari alcuni giorni mancano quindi non è detto che le misurazioni siano uguali al numero di giorni del mese e non è pure detto che in un certo mese il numero di misurazioni di Torino sia uguale al numero di misurazioni di Milano perché magari ho saltato la temperatura in una città ma invece ce l'ho a disposizione per l'altra quindi per questo tengo dei contatori separati città per città questa era la parte appunto che abbiamo visto vi ho raccontato velocemente che implementava il primo punto in cui che so il mese di agosto vedete che saltano fuori formattati tutti in maiuscolo in inglese i nomi dei mesi ma ci possiamo convivere cliccando su umidità mi dice mese di agosto e mi dà l'umidità di queste tre città ancora una volta sottolineo che il programma non sa nulla di Genova, Torino e Milano non sa scopre i nomi delle città quando le analizza ok? allora questo era il punto 1 di partenza tanto per orientarci se lo dovete scaricare dal progetto che ho fatto meteo simulazione ho fatto due release una è il progetto base che sarebbe quello che vi avrei dato all'inizio dell'esame e l'altra soluzione proposta è il punto 1 e quello che vi ho fatto vedere adesso adesso ci lavoriamo ancora proviamo a costruire il punto 2 insieme fatemi fare un branch così non faccio casino ok allora da qui in avanti ci concentriamo su quello che ci richiede il punto 2 dell'esercizio allora leggiamolo con un po' più di attenzione cioè sapendo che nel database sono presenti tre città a cui mi dà un'informazione che prima non avevo fino a questo punto in teoria posso lavorare in modo generale da qua in poi in qualche modo mi suggerisce o mi permette di fare l'ipotesi di usare la conoscenza del fatto che ci sono tre città qui da qua in poi lo possiamo saperlo se ce lo dice ci sarà un motivo supponiamo che un tecnico debba compiere delle analisi tecniche in ciascuna delle città all'interno del mese selezionato quindi nel nostro mese di agosto c'è un tecnico che deve fare delle cose e andando nelle varie città le analisi hanno un costo per ogni giornata determinato questo costo della somma di due contributi un fattore costante è C che è presente ogni qualvolta il tecnico si deve spostare da una città all'altra in due giorni successivi quindi se io in due giorni successivi sono in due città diverse devo mettere a preventivo un costo C poi ho un fattore variabile che è proporzionale all'umidità della città nel giorno K è una costante U è il valore dell'umidità perché magari non lo sappiamo le misure che deve fare sono su un'attrezzatura particolare perché se c'è più umidità ci mette più tempo e quindi costa di più per questa misura sto inventando chiaramente è per dire che per il tecnico non è indifferente visitare le città tutte in qualunque ordine oppure faccio le misurazioni prima a Torino poi le faccio a Milano poi le faccio a Genova perché a seconda del giorno in cui faccio la misurazione magari c'era meno umidità a Milano e allora mi conveniva farlo là poi magari se anche il giorno prima c'era meno umidità potevo stare due giorni consecutivi a Milano e evitavo il costo del viaggio allora cosa deve fare il tecnico deve trovare la sequenza delle città da visitare in ciascun giorno del mese tale da minimizzare il costo complessivo cioè lui è al mese di agosto dall'1 al 31 allora deve dire l'1 dove sono il 2 il 3 il 4 dove va in ciascuno di questi giorni in modo che alla fine del mese il costo sia il minore possibile c'è un vincolo in più perché ci sarebbe un modo quello di dire sto sempre a Torino e non mi muovo quindi il fattore C costante non ce l'avrò mai invece c'è un vincolo che dice in ciascuna città si possono spendere al massimo 12 giornate in totale anche non consecutive c'è un modo per dire guarda che tu all'interno del mese le 3 città le devi osservare in modo più o meno uguale 12 più 12 più 12 fa 36 è maggiore il numero dei giorni del mese quindi è un limite che dice dopo che sei stato 12 giorni in una città sei obbligato a spostarti non ci puoi più tornare in quella città poi magari quei 12 giorni li spendi 3 all'inizio 3 alla fine e sei in mezzo oppure li spendi solo 10 fa lo stesso è chiaro che dire che in nessuna città posso stare più di 12 giorni significa anche che nessuna città starò mai meno di 6 giorni 7 giorni in seconda del mese perché al massimo 12 giorni a Torino 12 a Milano fa 24 ne restano 6 a quel punto io dovrò spendere per forza a Genova 6 o 7 se il mese è 31 è un vincolo che obbliga a pianificare viaggi e a non star fermi allora devo trovare l'ottimo allora io ho due livelli in questo esercizio cioè immaginiamo di aver scritto in una tabellina inventando da caso i viaggi che deve fare in un determinato mese il nostro tecnico ci abbiamo detto teniamo la monetina una monetina a tre facce diciamo Torino Milano Genova 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 Milano Milano Torino Torino dato questa sequenza di città ogni città in un giorno dobbiamo essere capaci di calcolare il costo ma questo è relativamente facile no? perché significa diciamo così scandire queste varie posizioni ogni volta che una riga è in una città diversa da quella precedente sommo C e poi in ogni caso per ogni riga vado a sommare un fattore che è dato da K per il valore di umidità in quel giorno in quella città qui ci dà già dei valori da utilizzare C 100 euro per lo spostamento e K è 1 euro ogni percentuale ogni punto percentuale di variazione dell'umidità quindi se l'umidità è 70 70% come valore di umidità moltiplicato per K che è 1 euro al percento farà 70 euro e questo lo so fare qualcuno dice c'è da fare una simulazione ma non la chiamerei neanche simulazione questa cosa no? volendo sì la potete chiamare così ma non è necessario 30-31 elementi per ciascuno sommo questo valore qua K per 1 cioè che poi in realtà non significa fare la somma dei valori di umidità quindi per cui questo fattore K vale 1 o le fatture semplicemente devo fare la somma di umidità nelle varie città quindi andare a prendere la città giusta e poi sommare C moltiplicato il numero di volte in cui cambiamo città in due giorni cose così il valore che ottengo è un costo se cambiassi l'ordine delle città e l'ordine con cui visgo in città ovviamente questo costo cambia allora il mio scopo è di trovare l'ordine rimescolamento ottimale di queste città per rendere minimo questo costo a me puzza tanto di ricorsione questa cosa perché devo andare ad esplorare tutte le possibili combinazioni di viaggi modalità di viaggio per ciascuna calcolare il costo e alla fine trovare quello migliore dove il calcolo del costo diventa la funzione che viene calcolata ad ogni livello della ricorsione una ricorsione in cui ciò che devo fare è riempire un vettore di 30 o 31 elementi in ciascuna casella metterci il nome di una città e provare ovviamente tutte le combinazioni possibili col vincolo che abbiamo detto se una città l'ho già messa 12 volte non posso più metterla ok allora c'è una parte concettuale pulita e una parte un pochino di manovalanza un pochino più sporca diciamo così a livello del codice la parte concettuale è quella di impostazione della ricorsione le solite 5-6 righe che non sono tante ma vanno studiate bene e poi ovviamente questa procedura ricorsiva farà uso di altri metodi più di basso livello che devono effettivamente fare questi calcoli con questi c con questi k con questi euro che cercherà di tenere fuori ovviamente della procedura ricorsiva altrimenti non ci capisco più niente e sui quali ovviamente dovrò poi lavorare capire qual è il modo migliore di rappresentare questi dati allora partiamo dalla ricorsione come la impostiamo questa ricorsione allora io me la immagino immaginiamo sempre di essere a un certo punto io sono nel giorno oggi quanti ne abbiamo? 9 nel giorno 9 del mese sono a Torino e nei giorni precedenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ero in altra città siamo qua e a oggi ho un certo costo già accumulato domani dove vado? questa è la domanda che mi faccio ricorsivamente domani dove vado? posso andare a Torino posso andare a Milano posso andare a Genova anzi parlando ricorsivamente provo ad andare a Milano provo ad andare a Torino provo ad andare a Genova provare ad andare una città più di Torino o un'altra introduce un fattore di costo ovviamente da sommare rispetto al costo che ho già oggi se poi deciderò che vado a Milano vorrà dire che il costo per andare a Milano domani sarà dato da C cioè il costo che avevo fino ad oggi a Torino più C più la temperatura l'umidità di Milano domani e poi ricorsivamente domani mi sveglio il giorno 10 e mi farò la stessa domanda dove andrò il giorno 11 quindi io mi sto immaginando un array di 31 elementi che riempio via via da sinistra verso destra primo giorno secondo il terzo così ad ogni livello di ricorsione mi sposto sul giorno di calendario successivo e valuto quali sono le alternative tra le città in cui posso andare al giorno successivo la cosa del genere e man mano che vado avanti mi calcolo la funzione di costo funzione di costo che quando arrivo alla fine se è migliore del costo migliore visto finora me la posso salvare e mi salverò la sequenza delle città abbastanza classico no? allora proviamo a impostare io partirei da una classe che faccia questo lavoro poi dopo il lavoro sporco di gestire le liste lo inseriamo nel modello ma mettiamo qua in questo un package che si chiamava bing l'avevo chiamato così creiamo una nuova classe che chiamiamo optimizer questa classe optimizer che è capace di fare l'ottimizzazione di che cosa avrà bisogno per lavorare ovviamente avrà bisogno del modello dell'informazione sul modello quindi avrà di sicuro non vado a duplicare le informazioni che già avevo nel modello e quindi tipicamente il costruttore quando crea un nuovo ottimizzatore lo creo passandogli il modello che contiene già l'informazione quindi avrò anche un public optimizer che inizializza il riferimento al modello fin qua non abbiamo ancora fatto nulla adesso il lavoro che dobbiamo fare è appunto cominciare a pensare alla procedura ricorsiva cosa riceve in ingresso allora non parliamo della procedura ricorsiva parliamo prima della procedura di ottimizzazione in generale c'è l'interfaccia che deve ricevere questa classe cosa riceve in input in input riceverà il mese devi dare una risposta con il mese e in output cosa deve generare deve generare la lista delle città da visitare giusto quindi avrò un metodo che è quello principale che verrà chiamato dal model che ne so find optimal che riceve il mese e restituisce una lista di cosa di città in questo in questo programma non avevamo un bing per rappresentare la città lo rappresentavamo semplicemente come string purtroppo io me lo immagino così ti do un mese e mi restituisci tu lavora quello che devi fare fai quello che devi fare e mi restituisci la lista di città ottimali questa non è ancora la procedura ricorsiva ricordiamoci in quasi in tutte le procedure ricorsive e ce n'è una di frontend che prepara per la prima iterazione per il primo lancio della ricorsione prepara le strutture dati e poi lancia quella ricorsiva che sarà un altro metodo privato però di questa classe solamente interna a questo punto ehm cosa devo basta mi manca un attimo la procedura vera e ricorsiva su che cosa lavora a questo punto su questo array di città possiamo definirlo qua e anzi normalmente ne definiremo due uno è l'array di lavoro su cui aggiungo e tolgo la città e l'altro mi serve una copia di questo array per ricordarsi il meglio che ho visto quindi io dovrò avere lo definisco direttamente a livello di variabili distanza della classe una lista di città che è i viaggi il path e un'altra lista di città che è il migliore quindi questa è la lista di città visitate durante la ricorsione e questa è la lista cioè la visita migliore finora migliore vista finora e poi ovviamente per poter fare i confronti avrò bisogno anche del costo migliore costo migliore visto finora e poi invece la ricorsione lavora sui valori correnti quali altre cose devo sapere prima di partire beh devo conoscere i parametri di costo quindi dovrò definire ad esempio il C che vale la 100 euro e K che valeva 1 forse o qui o nel modello dobbiamo decidere ok poi mi serve sapere quanti giorni ci sono in questo mese perché la mia ricorsione dovrà andare avanti per 28 o 30 o 29 o 31 giorni a seconda del mese quindi possiamo anche deciderlo qua vediamo allora o lo facciamo a mano o se no vediamo se per caso lo trovassimo qui mi dà i costanti dei mesi e mi dice guarda come siamo fortunati già la classe month che abbiamo usato prima semplicemente per definire le costanti non è un enum stupida semplicemente con delle costanti ma anche dei metodi e ce n'è una che mi dà guess max length dammi la massima lunghezza di questo mese in giorni c'è un max e un min tutto colpa di febbraio perché altrimenti la lunghezza sarebbe costante noi siamo nel 2013 non è viso e stile quindi ci interessa la lunghezza minima possiamo ricordarci int days il numero di giorni lo possiamo calcolare come mese come mese punto get min non get min length poi se uno non guarda la documentazione si mette lì e dice if mese uguale a gennaio or mese uguale a febbraio fa 31 altrimenti fa 29 eccetera questo qua sarà il valore che mi serve come indicatore della fine ricorsione se il giorno che sto considerando adesso è già il giorno 31 ho finito poi best cost devo inizializzarlo a un valore poiché sto cercando di minimizzare devo inizializzare a dei valori esageratamente elevati in modo che la prima volta che trovo una soluzione sia sicuramente migliore quindi diciamo che 10 milioni di euro probabilmente è un valore sufficientemente elevato di sicuro staremo dentro alla fine sono 200 euro al giorno il massimo perché l'umidità non supererà mai il 100% e il spostamento costa 100 euro quindi alla peggio avrò 100 di spostamento più 100 di umidità 200 al giorno per 30 sono 6.000 euro al mese 10 milioni effettivamente ho sparato grosso ma va bene diciamo che sono quasi pronto a attivare la ricorsione facendola partire iniettando le varie città come nella prima posizione la prima città è da trattare come caso particolare perché non c'è il fattore C non c'è una città precedente da cui provenire quindi io sarei per dire inizializziamo la ricorsione partendo da Torino poi partendo da Genova poi partendo da Milano e quindi la procedura ricorsiva si vedrà un vettore di mesi in cui la prima posizione è già stata calcolata quindi io inizializzo allora innanzitutto il mio path lo devo definire quindi creiamo new array list di string lo creo nuovo ogni volta che viene chiamata questa procedura così non ho reminiscenze di invocazioni precedenti e poi inizio partendo da Torino quindi chiamiamola la cursive a cui passerò ovviamente il path poi altre informazioni che costruiamo parti da questo cammino riceve un cammino che è già stato inizializzato in cui nella posizione 0 ci metto Torino adesso però la metto una stringa poi volendo mi chiedo solito una piccola collection con i nomi delle tre città forse è più comodo e poi chiamo la procedura ricorsiva che a questo punto andrà avanti completerà tutte le possibili opzioni partendo da Torino cosa riceverà in ingresso questa procedura ricorsiva? il cammino svolto finora il numero di città visitate finora finora visitata una Torino il costo finora se voglio incrementarlo qual è il costo finora il costo finora è la temperatura K a volte l'umidità di Torino il primo giorno del mese il costo iniziale qual è? il primo giorno non c'è il viaggio e quindi questo me lo calcolo nella riga sopra uguale K per umidità a Torino il giorno 1 punto e virgola poi vabbè questo devo calcolare e quindi questa procedura ricorsiva la borerà non deve necessariamente restituire qualcosa che ha calcolato ma in realtà vado ad aggiornare queste due variabili best part e best cost poi rifaccio la stessa cosa con Milano rifaccio la stessa cosa con Genova e dopo che lo provate tutte posso dire tranquillamente che l'insieme delle città ottimali è il best part variabile best part che verrà aggiornato e viene messo dalla cucina ricorsiva che tutto funziona come deve io lancio la ricorsione e dai quando trovo l'ottimo me lo gioco dopo che lo provate tutte nel best part avrò l'ottimo assoluto mi manca per partire l'umidità e poi ovviamente mi manca la postura ricorsiva però non mi metto a calcolarla qua chi è che sa queste cose deve essere il modello quindi mi creo nel modello un piccolo metodo da institution double quindi questa cosa qua get umidità a cui devo passare tre informazioni la città il mese il giorno e lei deve restituirmi un valore che rappresenta l'umidità in quel giorno la implemento nel modo meno efficiente possibile scandiamo tutti gli elementi ogni volta poi c'è tempo e modo di ottimizzare però il modo più stupido andiamo a prendere tutte le situazioni che abbiamo già ovviamente nel modello e per ciascuno vi vado a chiedere se s.get località è uguale occhio è equal se non uguale uguale a città e s.get date punto get month get date punto ah ho dimenticato una chiusa tonda da qualche parte get data get data ecco punto get month uguale mese vai a città e s.get data punto get giorno del mese questo day on month uguale a giorno allora allora return s.get umidità ho la negazione dell'efficienza questa cosa fare una ricerca lineare ogni volta e poi questa cosa qua la chiameremo molte volte dentro la ricorsione quindi poi la dovremmo andare sostituire ad esempio con una mappa secondo me o qualcosa del genere che sia più efficiente in modo che data la città e il giorno mi restituisca al volo l'umidità senza dover ogni volta fare una ricerca lineare ma la signature del metodo sarà lo stesso quindi ragioniamo su che cosa deve fare il metodo e poi cerchiamo di implementarlo meglio ma non perdiamoci adesso a ottimizzare una cosa abbiamo definito che cosa fa cerchiamo di farlo poi ecco l'unica attenzione è che non è detto che questa umidità venga trovata perché abbiamo visto che ci sono dei giorni mancanti quindi nel caso in cui non ci sia diciamo che facciamo finta che sia 0 oppure 100 non so se vogliamo essere ottimisti o pessimisti questo qua nel caso in cui dato mancante ritorna a 0 quindi se esiste nel database una misurazione in quel giorno di quel mese per quella città mi viene restituita questo moltiplicato per k è il costo iniziale quindi avrò model punto get umidità in Torino mese è questo giorno 1 e idem analogamente modifichiamo gli altri ho di caso tre volte la stessa variabile è meglio adesso lavoriamo dentro la procedura ricorsiva ci è rimasto quello la parte difficile ci è rimasta ancora a fare private void recursive cosa riceve questa? abbiamo detto riceve la città ma per sapere da dove proveniva potrebbe anche andarsela a leggere no scusate sbagliato non riceve la città riceve il cammino infatti mi chiedevo perché gli servisse il cammino corrente poi il giorno e il costo attuale finora adesso la procedura ricorsiva cosa fa? prima di tutto vede se è arrivata alla fine andiamo a considerare i casi terminali i casi terminali sono due o il giorno allora scusate infatti uno sì uno è il giorno il mese non lo conosce e quindi è sbagliato mi serve anche il mese diciamo così mettiamo giorno il mese vicino allora il caso fortunato è quello in cui il giorno è già la fine del mese allora chiariamoci solo il parametro giorno che mi è stato passato è relativo a un giorno che ho già visitato io devo decidere cosa fare nel giorno più uno metto un esempio quando viene chiamata per la prima volta questa procedura riceve il giorno uguale a uno ma perché città uno ci è stata calcolata ci è stata piazzata e il costo relativo ci è stato calcolato e quindi devo lavorare sul due quindi se per caso mi dicono siamo ad agosto che il giorno la variabile giorno vale 31 vuol dire che il giorno 31 è già stato calcolato e io sono a costo non devo più fare niente quindi in caso terminale è quello in cui giorno sia uguale a come l'avevamo chiamata quella variabile days fatemi chiamare days max dai così mi ricordo meglio a cosa serve i giorni massimi del mese se è così sono arrivato alla fine del mese devo aggiornare il costo sono alla fine del mese e quindi vado a vedere se il costo con cui ho raggiunto adesso la fine del mese è più piccolo del costo migliore che ho visto finora vuol dire che ho trovato una soluzione migliore di quante ne avessi trovato finora e allora aggiorno best cost e mi salvo la soluzione appena trovata best path uguale attenzione non fate best path uguale path perché questo vorrebbe dire che è fatto che ho trovato best path punti alla stessa lista che sto ricevendo ma questa lista la sto modificando nella riposizione io voglio che best path si faccia una copia una fotocopia distinta di quella lista che poi se modifico questa lista che lo modificavamo ancora miliardi di volte non venga più modificato il best che ho visto finora quindi new array list string di path cioè fatti una nuova lista in cui travasi una copia di questa è chiaro questo e basta e ho finito se sono alla fine del mese faccio questa verifica se questa verifica è positiva mi salvo la soluzione migliore e in ogni caso non ho nient'altro da fare e quindi posso ritornare ci siamo poi altro modo altra causa di devo inserire il vincolo dei 12 giorni non è possibile stare in una città per più di 12 giorni sto pensando dove conviene metterlo a questo test lo posso mettere in due punti o qui all'ingresso della funzione ricorsiva in cui vado a vedere se per caso una delle città aveva già 13 giorni ritorno non vado vanno oppure quando generano il giorno successivo e lo genero solamente se ne ho al massimo 11 forse mi siamo un pochino più pulito che non mettere una città perché qui dentro se una città compare 12 volte va bene va ancora bene se compare se 13 non viene più bene allora io potrei dire la metto comunque dentro la città quindi semplifico la parte di generazione della nuova ricorsione e metto comunque dentro le pro tutte e tre ma poi al inizio della funzione mi dico ma senti per caso ne ho messa una 13 volte allora mi fermo prima cosa lo spreco oppure prima di metterla controllo guarda se c'era già 12 volte non la metto più quindi forse è meglio fare così e quindi non ho un'altra condizione di terminazione prematura che dica smettiti di fare ricorsione perché la configurazione attuale non è più valida a questo punto cosa devo fare? devo decidere in quale città andare nel giorno successivo allora posso decidere che la prossima città sia nuovamente Torino quindi provo su Torino quindi la cosa più semplice cos'è di dire? è di dire andiamo a vedere ho un costo C cioè devo spostarmi non lo so qual'era la città in cui ero oggi vediamo se fatemi fare prossima città mettiamola in una una variabile se no la devo scrivere dieci volte se la città in cui sono attualmente qual'è la città in cui sono attualmente? path.get di giorno meno uno i giorni si misurano a partire da uno ma gli array list contengono gli elementi a partire da zero è equals la prossima città in cui voglio andare anzi se non è equals si mette un meno davanti un note davanti allora incremento il costo di C fatemi già una variabile diversa prossimo costo uguale uguale costo costo e poi in ogni caso devo sommare il fattore dell'umidità della città destinazione quindi mi chiedo al prossimo costo uguale prossimo costo più model.k volte model.get umidità nella città prossima città nel mese attuale nel giorno giorno più uno quindi decido di provare andare a Torino e mi calcolo che cosa implica andare a Torino implica eventualmente un costo di trasferimento se la città in cui mi trovo oggi non è Torino e poi sicuramente un costo dato dall'umidità che ci sarà a Torino domani fatti questi conti posso provare ad andare a Torino ah no scusate metto ancora nel path a questo punto punto add nella posizione giorno meno uno la città prossima città e a questo punto posso fare la procedura ricorsiva in cui ci metto il cammino giorno più uno mese prossimo costo quindi meno uno nel giorno sono relative solamente al get al lad nel path solo perché gli indici della release cominciano da zero se no io ho il giorno che è il giorno già visitato e il giorno più uno è quello che voglio visitare e quindi l'umidità mi interessa del giorno più uno la ricorsione la faccio passando il giorno più uno in realtà devo fare ancora un controllo prima di fare questo blocco che verifica che Torino non ci sia già in realtà 12 volte dentro il path perché se ci dà 12 volte l'opzione di provare ad andare a Torino non lo devo che provare quindi prima di fare tutto questo dovrei fare una piccola verifica non la faccio qua in line mi faccio un metodino proprio di servizio per non complicarmi le cose se conta città della città prossima città in cui vorrei andare all'interno del path forse già maggiore maggiore non sarà mai ma uguale a 12 non fai nulla scusate facciamo lo contrario se la contracittà è minore di 12 allora facciamo questo poi come sempre quando faccio una procedura ricorsiva e ho aggiunto un elemento devo rimettere le cose a posto quindi avrò un path punto remove di giorno più uno l'ho aggiunta in fondo poi la tolgo prima di aggiungerne una diversa questo metodo conta città me lo posso fare qua sotto semplicemente int conta città riceve una stringa e una lista di string in cui int con count uguale 0 or string s due punti path if if s punto equals città campi più return count me lo ricordo vado a vedere il cammino che ho fatto finora conto le città conto quante volte compare Torino se è minore di 12 allora provo ancora a mettere un'altra volta anche qui poco efficiente perché ogni volta mi le vado a scandire potrei decidere di tenere traccia in una piccola mappa o in tre variabili di quante volte ho aggiunto una città ogni volta che l'aggiungo un incremento ogni volta che l'afforgo un decremento tutte le imitazioni che possono venire dopo anzi dovrebbero venire però andiamo avanti in passo alla volta questa cosa qui dovrei farla uguale uguale su Milano uguale uguale su Genova in realtà ho fatto attenzione qua dentro non usare mai il nome della città Torino ma ho chiamato prossima città quindi mi basterà probabilmente fare un ciclo in cui questo blocco lo itero tre volte per ciascuna delle tre città ad esempio potrebbe essere vediamo se mi viene gli piace? non gli piace niente devo farlo speravo che ci fosse un costruttore del genere allora me lo costruisco mie città e quindi nella chiamante costruisco anche mie città sempre come una release di stringhe aggiungo questo mi permette di semplificare un pochino il codice qua string prossima città mia città e quindi anziché farlo su Torino con questo ciclo lo ripeto tre volte for prossima città due punti mie città sarà la prima volta a Torino e la prima volta a Milano volendo anche qua potrei modificarlo ma per ora non lo voglio toccare voglio provare a vedere se funziona finora ciò che abbiamo costruito quindi a questo punto finalmente torniamo nel controller e possiamo dire al controller andiamo a prendere il mese ripeto ciò che facevo prima controllo prendo il mese che è l'unico input che abbiamo controllo che sia stato specificato se è stato specificato allora posso creare una nuova classe optimizer a cui passo il modello come parametro e poi chiedo all'ottimizzatore di darmi il cammino ottimale find optimal path del mese se tutto va bene dovrei poter stampare questo elenco di città che è tutto non è direi Grazie a tutti. Proviamo a vedere. Si pianterà e quindi poi faremo un po' di debugging. Allora, gennaio, calcola. Ovviamente si è piantato. Allora, qui sta cercando di leggere al di fuori dell'array. Sì, qui fa un errore marchiano perché l'ho messo l'elemento nella posizione giorno meno uno, ma l'ho tolto dalla posizione giorno più uno, non so perché. Forse sono tutti così gli errori. Ecco, quelli reali sono così, che clicchi calcola e si blocca. Eh, ma in realtà si è fermato, sta facendo ricorsione questo. Secondo me si è... C'era sicuramente un errore come dici tu qua, ma il problema è prima, se no lì avrai un'eccezione. Andiamo a vedere cosa fa. Io andrei a mettere... Un break point qua per vedere quando arriva la fine della ricorsione. Anzi, sì, qua. Ci arriva. Infatti ci arriva con un cammino che è... Andiamo un po' a vederlo. E' quello che quasi ci aspetteremo come prima ricorsione. 12 volte Torino, 12 volte Milano, 3, 4, 5, 6 volte Genova e poi un Torino alla fine, non lo capisco tanto questo. Il best costo di questo è 4.000 euro. Ha senso perché abbiamo visto che il massimo assoluto a cui potremmo arrivare è intorno ai 6.000. Il best era ancora 10 alla 7, quindi andando avanti dovrai vedere che effettivamente viene salvato il best part. Poi vado avanti, la volta successiva. E' uguale. La volta ancora dopo... Ho qualche problema a cambiare i cammini, quindi probabilmente nella parte di generazione dei cammini ha fatto qualche errore. Perché sta facendo sempre lo stesso. Questo richiede un pochino di debug, un pochino più approfondito, probabilmente... Io darei la colpa alla procedura ricorsiva. Però dovrei tracciarla un po' meglio. Adesso non abbiamo... Non lo riusciamo sicuramente a risolverlo in 10 secondi. Salviamolo così e poi vediamo qual è l'errore. Quando vi metto poi il progetto online scrivo poi un commento in cui spiego quale sia l'errore che provate.